Buonasera da Lingueglietta, Festival della Musica nei Castelli. Ci troviamo all'interno della chiesa di San Pietro, la Chiesa Fortezza, con il gruppo Birking Tree e con Fabio Rinaudo. Buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Ecco, questa sera avete suonato una musica tipica irlandese, giusto? Certamente, abbiamo fatto un concerto dedicato all'Irlanda e ad un repertorio che vedeva una larga varietà di quella che è la tradizione musicale di quest'isola. Ecco, volevo chiedervi come è nato il gruppo e perché avete la scelta di questa musica. Il gruppo è nato più di 30 anni fa, io ero ancora giovane. Beh, questa musica mi ha sempre affascinato, come mi ha sempre affascinato l'Irlanda, il nord dell'Europa e queste terre che ai tempi si chiamavano Celtica, la Scozia, l'Irlanda, la Bretagna. E quindi all'inizio ho ascoltato tanta musica, tanti dischi e poi ho iniziato a suonare e da lì sai, ho incontrato degli amici e parto un cammino e via. Ed eccoci qua. Bene, ecco, quali sono gli strumenti tipici che usate per suonare questa musica? Sono quelli che normalmente si usano nella musica irlandese, questa sera avevamo la corna musa irlandese che si chiama Ilian pipes, il flauto attraverso irlandese, il violino, la percussione che usano nell'isola verde che si chiama Borwan e poi la chitarra. Altre volte portiamo altri strumenti, ovviamente con altri componenti. Un gruppo parte dal quartetto per poi arrivare sino a presentare sette elementi. Bene, so che farete un'altra tappa qui nella riviera di Ponente, se possiamo dire dove e quando. Con piacere, saremo in un altro posto molto bello come quello di stasera, sono i Giardini Emburi a Ventimiglia e suoneremo là il 18 agosto. Bene, vi aspettiamo numerosi, grazie ai Birkingtree e buona serata. Grazie a voi, davvero. Grazie a voi. 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 Grazie. Grazie. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.